Allora ragazzi, vorrei avvisarvi che purtroppo non so perché ma il programma di editing mi ha fatto disturbare, se così si può dire, l'audio di Bubo Ma vi giuro che è perfetto, solo che però con l'editing si è corrotto Ragazzi, solo per questo episodio l'audio di Bubo sarà così, ma dei mostri migliorerà, di sicuro Scusatemi ancora Hi, I'm Janji Hi, I'm Janji e benvenuti in questo nuovo video, oggi per la prima volta su FIFA 17 Siamo qui nel Road to Division 1 in Coop, ce la faranno i nostri eroi con Bubo MC Yeah, bella ragazzi Però tutto il pubblico si domanda, è Bubo MC o Bubo MC? Bubo MC, Bubo MC Ragazzi, il primo episodio lo trovate nel suo canale, vi lascerò il link in descrizione del canale e del video Faremo un video sul suo, un video sul mio Ci alterneremo sui due canali per creare forse una serie un po' più carina Ragazzi, noi cercheremo l'avversario da far remare Abbiamo trovato il nostro avversario E vediamo chi dobbiamo fare male oggi Ok ragazzi, siamo qui Napoli contro Schalke 04 Sembra una partita alla nostra portata, eh Attenzione Perché ne partiamo sempre male pure con i passaggi? Sì, fra, è la nostra maledizione Però, passaggio sbagliato, vittoria anche Attenzione a Chupo Moting sulla fascia con questo taglio di capelli Altrettanto bizzarro che fa un cross, altrettanto bizzarro Bizzarro, bubo fa un passaggio altrettanto bizzarro Bizzarro, esatto Ecco Alan, ripartiamo, eh, bubo Lunga, 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 lunga Bella Ma era bello sto passaggio che abbiamo Arzio Schizzi Milik Crosa Che faccio? Sì, vabbè Alan Ok, la palla, no, ma la palla è arrivata, il giocatore più alto della nostra squadra, devo dire Io ho detto, vabbè, la prende Milik, sicuro, zero Comunque, vi invito a vedere il primo episodio che troverete sotto in descrizione nel canale di Bubo Perché, raga, c'è una partita, la prima partita è qualcosa di mostruosa Tira Eh, fuori gioco, fuori gioco Fuori gioco, fuori gioco, oggi Cioè, io in due episodi non ho fatto un gol, ora che la faccio è pure fuori gioco Ma vabbè, dopo muore la sala, il guardalino Sì, non arriva fuori al spogliatore Esatto Farne a casa, guardalino Dancing con la palla In basso o alta? Tranquillo, già sapevo Fallo male, fallo male per me, fallo per me E Bubo non lo fa per me Recisa per Culebot Ma porca puttana Eva, però, eh Giudi, giudi, giorginio, giudi, giorginio Oh, arbitro E dai Mamma mia Dancing, usa colpo del sole, la para E' un assedio, stanno subendo l'assedio Fra, ci siamo fatti proprio Ci siamo fatti proprio il campetto vicino alla sua porta Capisci? Cioè, non sono due campi Ma è un campo solo con la porta Ma lo metto sta campetto vicino alla porta Cioè, ma Irina si è seduto là Ha detto, vabbè, rai Ora gli fai i passaggi Noi siamo i neri, già Lo so che tu sei abituato al Napoli bianca-azzur Eh, scusa E l'emozione La puoi prendere Ma dove, Alan? Mamma mia, manca avesse fatto Fai mezzo Eh, con Alan Non penso che combi Infatti, manco lui, ragazzi Fai la rovesciata Vabbè, ma è assurdo Cazzo, Mili Ma c'è, il Mili che abbiamo speso il 30 milioni Non fa una cazzo di rovesciata Ma davvero fai Non ti preoccupo, tira, tira, fallo male Ma le fanno ma... Che segura Sì, no Sì, no Beh, ma che è scappato No, ma la è scarpata più bella di questa Non l'ho mai vista Vai, Tenzi Vai, vai, che c'ho in signa Vai che in signa Ma sai come possiamo segnare, boh? Sì Sì Così, boh, quit, boh Si sono messi paura Hanno capito che contro di noi Non si poteva fare niente, ragazzi Questa partita la vinciamo a tre La promozione, cazzo Quella è importante, proprio Ma come fatevi dire Qui abbiamo in promozione Quindi un'altra vettore E non vinceremo il titolo Ok, Napoli versus Milan Secondo contro terzo in classifica Questo è il derby italiano, eh Una lotta tutta italiana, Zio E non scherziamo che il Milan è una bella squadra, eh Ma ti immagini di Ronaldo in attacco What? Giorginio Cosa vuoi fare? Bella Eh, lo so, lo so Lo so Cioè, ragazzi, è il secondo episodio La quarta partita che gioco E non riesco a fare gol Comunque non era fuori gioco, eh Quanto tempo? Sono due anni che c'è una sciamma Non me la dai? Eh, lo so Alla palla del battaglio Ma dove fa? Ma come c'era pure io quell'e Come ci hanno fatto Ricordiamo che nel primo episodio La seconda partita c'è stato il momentum, eh Eh, però guarda qua Cioè, guarda quanto andava piano quella palla, già Vai, Gianji Tira col Giorginio Giorginio Vabbè, ma tieni proprio il piede a patata A patata A patata Ma fosse di a patata Super Milik Guarda a me Non so che ho fatto Mi sono messo paura Sopra? Sopra, siamo in due Gianji Ancora Bravo Ok, buona Sì, ti ho visto Anche su Amsic Vai che te l'ho chiusi in mezzo Buona Amsic Eh, vabbè Ma che cazzo Ci stiamo, ci stiamo, naga Bellissima questa E questo è il FIFA che mi piace, eh Meritiamo Siamo meritando tantissimo Magari un altro quit Ti prendo Alta Bravola È da bloccare C'è sempre a lei in mezzo C'è sempre Bria l'anni in mezzo Però C'è assurdo C'è Alan Se Alan fosse Milik Saremo 3 a 0 Tira 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 Questo è gol Sì No Sembrava 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 Porca Alan C'è l'ha il piede Guarda mi Guarda mi Sono con Milik Tranquillo Vabbè, buono, buono, buono Ma no Eh, vabbè Ma go E ancora È Bubo che intanto Mi festeggio io Faccio fin da che ho segnato io Dai Ma Mi ha segnato Mi ha segnato Mi ha segnato milik Vada là Bu Fai un go Bubu No Ho segnato io Ho segnato io Ma se mi dava il fuorigioco ti uccidevo Ti uccidevo È il primo gol Di mazzo lo posso affermare Tutta bravura di Bubo È una torca Fallo male È una torca Ma do Giorginio è un'altra volta Fra Giorginio è troppo spazio Giurginio è troppo spazio Mi ha detto tipo 60.000 All'inizio Gine per Calion Eh Non lo so Siamo solo noi Siamo solo noi Su questa faccia È là Ok buona 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 Ma Preciso Ma Mamma mia Arcadius Melek Arcadius Melek Cianji Fa il suo vero Primo gol In questa serie Nella Rhodes Division One in Cop Mamma mia Che passaggio T'ho fatto Con giocato Fino ora Quei gol Stanno sempre Prontare questo Bubo Vaffanculo Ora mi prendo Un po' Di merito Ci sta Soddisfazione Eh certo Abbiamo Quattro No Non abbiamo più Mi Ho detto Oddio Di una Sosa Quel Sosa Invece non è Quello là È quel Sosa Fra È quel Sosa Il Sosa Nel Napoli Te lo ricordi Eh È il Pampa No è il Pampa Quell'altro A ciappa Sto fedente Di merda L'ho segnato Mamma mia Questo 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 Sosa Giocano In Napoli Tranquillo Bubo Lui C'è Un primo Golo L'hanno segnato Dai ma non c'era Nessuno Capito Avevo tutto il tempo Bravo Vai Caleon Caleon Che faccio Vai Fatterà Tutti Tira Tira Allaccio Dai Da solo Ne avevo fatti Due Ne avevo fatti Due No Dai Dai No No Ma non Ma la Finisce Ragazzi Finisce Questa partita Con due No Schippato Per due Rete Uno Bene c'erano Guardate come si disperano Tito Divisione E abbiamo vinto Ragazzi siamo andati in divisione 3 Ho fatto un tiro Siamo andati in divisione 3 E è già il secondo episodio Con Bubo Bubo Che ne pensi di questo inizio di divisione? Vabbè sicuramente si parte con un piede diverso Cioè comunque già vincendo un titolo Si affronta la prossima divisione Con più Serenità No ma serenità Tranquilità E anche un po' di Come No di allenamento Beh di esperienza Di esperienza Si accumula esperienza Ragazzi per questo episodio Sul mio canale è tutto Il prossimo episodio Il terzo Lo troverete sul canale Di Bubo MNC Che mi metterò il link in descrizione Il primo episodio anche in descrizione Io vi saluto Ciao da Gianci E da Bubo Bella ragazzi Noi ci vediamo al prossimo episodio Ciao ciao Noi ci vediamo al prossimo episodio